ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video in questo nuovo assaggiamo bando le ciance perché oggi è il turno di assaggiare queste patatine al chimiciurri è una salsa di origine argentina a base di prezzemolo aglio e peperoncino vi faccio vedere quella che è la confezione la parte anteriore essendo una salsa a base di prezzemolo anche se qui ci sono delle patatine belle gialle e dorate io mi aspetto comunque un po di verdino su di loro sul retro vi faccio vedere quelle che sono le informazioni nutrizionali e anche quelli che sono gli ingredienti direi quindi di andare ad aprire la confezione andare appunto a vedere come sono effettivamente queste patatine se sono come me l'aspetto io o come sono sulla confezione e poi di andare anche ad assaggiarle allora effettivamente sono come sulla confezione ve le faccio vedere un pochino più da vicino e sono completamente gialle ovviamente in compenso però c'è un buon profumino che arriva di appunto prezzemolo e anche un po misto aglio un po speziato diciamo così andiamo quindi ad assaggiare non sono malvagie in realtà sono principalmente di prezzemolo e sono anche particolarmente poco salate ma ne provo un'altra perché magari è giusto quella che ho preso io che non era effettivamente salatissima questa è un pochino più tendente al rosso in realtà questa è già meglio come quantità di sale ed essendo un pochino più rossa è anche un pochino più saporita diciamo così un pochino più tendente al piccante anche se assolutamente appunto non non è piccante un po perché io sono abituata a mangiare cose super piccanti ma comunque sia non si sente almeno per quanto riguarda me per cui se le trovate alla Lidl io devo essere sincera non è che ve le consiglio così tanto magari provatele potreste avere un'idea un'opinione diversa da quella che ho io spero che in ogni caso il video vi sia stato utile nel caso lasciate un bel like e commentate facendomi sapere se l'avete già provate se non siete iscritti mi raccomando iscrivetevi e attivate anche la campanella per non perdervi i prossimi video qua sotto in descrizione trovate link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video e salutarvi dicendovi have a nice life Grazie 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 Grazie